Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della Rassegna Stampa di mercoledì 14 agosto. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina naturalmente un titolo di carattere politico relativo alla crisi che sta attanagliando il governo nazionale. Ieri c'è stata la riunione del Senato. Sfiducia non passa la linea Lega. Questo il titolo scelto dal Corriere delle Alpi che poi nel sottotitolo spiega il Senato respinge la mozione Lampo contro Conte che sarà invece in aula il 20 agosto. La richiesta era quella di portarla già oggi in aula. Salvini ai 5 Stelle. Votiamo il taglio dei parlamentari. Poi subito elezioni. Il PD rilancia la sua battaglia. Ora un esecutivo responsabile. E come fotonotizia del giorno l'elicottero del Suem mentre è impegnato ad effettuare un salvataggio in Comelico. Scivola per 200 metri mentre va a funghi 67enne miracolato. Spiega il Corriere delle Alpi. Se l'è cavata tutto sommato a buon mercato. Un fungaiolo 67enne di San Nicolò Comelico che è scivolato per oltre 200 metri in un bosco molto ripido. Per lui solo la sospetta frattura di una spalla. Il suo corso appino della Val Comelico è stato allertato dalla centrale del Suem per intervenire in supporto all'elicottero di Pieve costretto peraltro a effettuare un atterraggio in una posizione per nulla agevole a ridosso di una piccola scarpata. Andiamo a vedere qualche titolo che il giornale dedica alla crisi di governo. Tagliamo i parlamentari poi al voto. Salvini rilancia ma viene beffato da PD e 5 Stelle. Il leghista a sorpresa spinge sulla riforma poi va sotto in Senato. La sfiducia a Conte sarà discussa il 20 agosto. Il veto di Mattarella è inaccettabile la proposta leghista. Il capo dello Stato interviene sulla crisi e dà la Maddalena dubbi costituzionali sul percorso disegnato da Salvini. La russa bisognava rompere prima, non ora. Si rischia di non votare. Zingaretti rimane scettico. No a Di Maio, ministro. Il segretario non crede a un esecutivo con i grillini. Stop dalla base del partito. Renz è soddisfatto ma mette al 50% la possibilità del governo con i 5 stelle. Questi sono alcuni titoli tra quelli che vengono dedicati oggi al tema della crisi di governo ma passiamo alla parte del Corriere delle Alpi che riguarda la provincia di Belluno. Questo il primo titolo che incontriamo. Entro Natale le isole ecologiche interrate in Piazza dei Martiri a Belluno e da gennaio la tariffa diventerà puntuale. In Piazza dei Martiri inizieranno a brevi lavori per collocare i contenitori sottoterra. Bacheche per affissioni piene di ruggine e colla. La Lega chiede decoro. Anche questa notizia viene dal comune di Belluno. Andiamo avanti nel giornale. Un cervo centra l'ambulanza della Croce Bianca. Incidente sulla strada del Falzarego. Lupi alle ronce di Belluno messi in fuga facendo scoppiare dei petardi. Ater 282 famiglie attendono un alloggio. Le graduatorie del 2017 dicono che solo il 15 per cento delle domande viene data in risposta perché mancano case libere. La regione annuncia la costituzione di un nucleo di analisi per esaminare i problemi sorti per l'aumento degli affitti. In provincia vendute in un anno 2.185 case. I dati registrati nel 2018 sono in aumento più 11,6 per cento rispetto al 2017 ad esclusione della sola area del Longaronese. In poco tempo è stato perso anche il 20 per cento del valore. Per Michele Vigne, in rappresentanza dei proprietari di casa, ormai possedere un immobile è diventata una sventura vista la mole di tasse che siamo costretti a pagare. Cresce anche il settore delle locazioni, sempre meno gli alloggi disponibili. La 600 è un modello tuning tutta rossa sportiva ma scatta la multa. Giovane controllato e sanzionato per le modifiche all'auto nell'abitacolo trovato pure un coltello ed è stato denunciato. Gestione dei rifiuti. Il comune si indirizza verso Belluno. In questo caso si tratta del comune di Borgo Valbelluna. La società fa la raccolta trichiana e ieri il direttore ha incontrato il sindaco Cesa. Faremo tutte le valutazioni ma stanno facendo un buon servizio. Cesana pronta alla festa di San Bernardo. Nuovi lavori alla chiesa. Sedico Castelliere di Noal. Fitto il programma di visite in agosto e in settembre. Al pago tasse e tariffe comunali. Il consiglio decide di tenerle tutte congelate. Acqua sporca da giorni. Lettra di protesta del sindaco di Tambre a BIM. GSP. Valdizoldo invia di ultimazione la messa a dimora dei nuovi punti luce. E siamo in Agordino. Unione Montana-Agordina. Costa primo indiziato, per così dire, la parola scritta tra virgolette, per la presidenza. Il sindaco di Falcade raccoglierebbe i favori dei colleghi di area centrosinistra ma anche di alcuni di opposto orientamento. Nuovo presidio radio sul monte Gardelon. Servirà a garantire i collegamenti alternativi ai comuni in caso di emergenza dovuta a calamità naturali. Il monte Gardelon in comune di Gosaldo. Agordo, Paglio dei Cento. Torna la frazione di Farenzena. Eccoci a Feltre. Restano sfitti gli alloggi destinati ai padri separati. Non ha avuto risultato il bando nonostante l'urgenza del problema sociale. La municipalizzata verificherà con il comune cosa fare dei mini appartamenti. Un assegnatario si è reso irreperibile e due richiedenti non avevano i requisiti. In partenza anche a Foen il dopo scuola per gli alunni. Aiuti alle famiglie per i costi scolastici con i soldi stanziati dai contribuenti. 10.000 euro sono stati destinati alla riqualificazione del parco al Boscarez. Tutte notizie e queste ultime relative al comune di Feltre. Lavori al Driole Rive Lega Nord all'attacco. Siamo ancora a Feltre e la notizia riguarda il paraghiaccio. Forlin e Capuano interrogano sulle tempistiche dei lavori, chiesti i dati dei rumori slevate durante il festival musicale. Chiesa di Formegan, il vescovo celebra la dedicazione dopo i restauri. Venerdì 16 la cerimonia durante la festa di voto a San Rocco. Vent'anni di lavori hanno visto l'impegno di tutta la comunità. Quai Rovas alvia oggi le manifestazioni per la Madonna del Piave. Cortina riapre l'ex Miriam, demolito e rifatto con 6 milioni di investimento. Sempre la Cortina, rifugio Lago Dayal, è aperto il bando per la nuova gestione. San Vito Camper fermi ovunque. Monta la protesta. Non c'è un'area ad hoc. Comunque la loro sosta, per esempio al Lago Mosigo, è legale. Disturbano certi comportamenti. Consegnati al Soccorso Alpino nuovi e moderni mezzi per 270 mila euro a Pieve il Cadore. L'assessore Bottacin, in rappresentanza della regione, elogia la professionalità e l'abnegazione di questi specialisti. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno, che naturalmente in prima pagina, come primo titolo, mette quello relativo alla crisi di governo. Crisi, prove d'intesa, PD, Movimento 5 Stelle. Assi al Senato. Passa il voto sulla sfiducia a Conte il 20 agosto. Si allontanano le urne. La contromossa del leader del Carroccio, ok al taglio dei parlamentari. 5 Stelle divisi. Spiega il Gazzettino. Al Senato le prime prove di asse tra PD e 5 Stelle. Centrodestra battuto. Grillini, Dem, Leu e Autonomie votano insieme contro la proposta di mettere ai voti nell'immediato la mozione di sfiducia a Conte. Il dibattito sulla sfiducia del Premier dunque slitta al 20 agosto. Contromossa di Cialvine, il leader leghista apre a sorpresa al taglio dei parlamentari caro ai 5 Stelle. Votiamo la prossima settimana e poi andiamo subito al voto, ma la data delle elezioni a questo punto si allontana. Spunta anche l'ipotesi di un conte bis. L'argomento viene poi approfondito nelle pagine seguenti, ma noi andiamo subito alla sezione del giornale che riguarda la provincia di Belluno e che si apre con il seguente titolo. Eroina killer e caccia al pusher. Dopo la morte di un 53enne, sempre a sedico un altro caso, in ospedale un 35enne in overdose, salvato dai medici. Gli investigatori sospettano che nella zona sia stata messa in circolazione una partita di stupefacente tagliata male. Nuovi presidi in arrivo, ma non per tutti, scuole a rischio. Alcuni dirigenti non ancora in ruolo. Impossibile coprire così ogni istituto. Lunedì riunione nell'ufficio scolastico per definire i criteri di assegnazione, poi le convocazioni. Turismo estate da record. In aumento gli stranieri. Numero in crescita dopo un avvio difficile per il clima. Boom in centro Cadore e Val Belluna. Cinesi, giapponesi, inglesi, francesi infoltiscono le file dei tradizionali visitatori austriaci e tedeschi. Montagna vincente, mentre territorali e adriatici segnano una flessione. Rifugi e malghe è tutto esaurito. Ragazzi in pellegrinaggio sulle orme di San Francesco. Ricordato il gemellaggio tra Gubbio e Livina Longo, riccialente ai tempi della Grande Guerra. Andiamo ancora avanti sul gazzettino di Belluno. In centro a Belluno arrivano i bidoni a scomparsa. La soprintendenza ha dato il via libero alle operazioni di scavo nelle due aree individuate in Piazza dei Martiri. Le campane saranno sei. Costo dell'intero progetto, 100.000 euro. L'assessore Gans, più efficienza ma anche maggior decoro. Lupi affamati nel recinto sbranano l'asina gravida. La nuova predazione ieri alle ronce, frazione di Belluno. È il quarto caso in pochi giorni in zona. Ed eccoci a Feltre. Donazioni di sangue in calo. Appello lanciato ai volontari. Temperature torride ai giorni di ferie. Diradata la frequenza delle trasfusioni. Marchette. Per ora nessun allarme ma servirebbe un piccolo sforzo in più. A San Rocco lavori finiti. Il vescovo riapre la chiesa di Formegang. Venerdì la cerimonia di dedicazione dopo il restauro e l'adeguamento. Dopo il rito alle 18 in programma la processione per le vie del paese. Comunità dei Fideli in festa domani per la Madonna del Piave a Querovas. Diventerà ciclo pedonale il tratto di vie altinate. Pronti 85.000 euro. Questa notizia viene dal comune di Fonzaso. Tetto pericolante. Il sindaco di Borgo Valbelluna ordina il ripristino. Il vecchio immobile in località corte dovrà essere messo in sicurezza dai proprietari nel giro di due mesi. A secco da giorni e senza risposte andrò dal prefetto. Acqua non potabile da una settimana in tutto il territorio di Tambre. Il sindaco minaccia per così dire Bing SP che però gira il caso a Luz. Picnic nella foresta arriva là per prenotare i tavoli in consiglio. Da 55 anni vacanza al lago. Gino e Germana premiati. Questa notizia viene da Alleghe. E chiudiamo con due notizie da Cortina e da Alcadore. L'albergo Camina è realtà. Investimento da 6 milioni. Questo per Cortina e poi da Calalzo. Lago giù di 3 metri. Lira dei sindaci. Vertice ieri tra i rappresentanti dei comuni rivieraschi per arrivare a un nuovo accordo di gestione con l'Enel. L'abbassamento arriva un'altra volta all'apice dell'estate. messi a repentaglio gli sforzi per far ripartire il turismo. Si chiude qui questa edizione della Rassegna Stampa. Tutti voi il più cordiale a risentirci.